Ok, ci siamo. Vediamo un po' se c'è qualcuno questa sera interessato. Qualcuno sembra esserci. Buonasera a chi si sta presentando. Allora, vediamo un po'. Buonasera Ivan, buonasera Graziella, buonasera Maria Grazia, Immacolata, Daniela. Fatemi, datemi un cenno se si sente bene, se si vede e si sente bene. Amalia, Anna Maria, si sente bene la voce? Funziona tutto? Susanna, buonasera. E c'è anche Eugenio. Eugenio ha l'onore di essere il primo maschio presente nel gruppo degli ascoltatori. Si sente e si vede bene? Dice, ok, anche Ivan, tutto bene, ottimo. Bene, bene. Conferme sul funzionamento. Buonasera, è il mio omonimo Enrico, nonché nostro ospite. Andiamo, Adele, Cristiana, Donatella, Daniela, Mariella, Patrizia. Buonasera, buonasera, buonasera Federico, Nicola, buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Ah, guarda, c'è Andrea anche. Riprenderemo la lettura da pagina 120 del volume Oltre l'illusione, edito dalle edizioni mediterranee. Tutti i libri del cerchio, ormai lo sapete a memoria, sono editi dalle edizioni mediterranee, tranne quelli della storia del cerchio che trovate solo su Amazon. Buonasera, buonasera, Katia. E questa lettura di questa sera, buonasera Maria Vittoria e Lucia, questa lettura riprende un paio di paragrafi che abbiamo già letto a suo tempo, in febbraio, ma che torna utile a rileggere per ricollegarsi al tema che leggiamo, che si intitola La vera pienezza della vita. Buonasera, buonasera, Paolo, Terry, Elena. Allora, vediamo un po'. Vediamoci ancora un minutino e poi iniziamo. Buonasera, Stefania. Allora, come sapete, ovviamente, ma lo ripeto sempre perché alle volte queste letture che voi è possibile rileggere e riascoltare tramite YouTube, bisogna ricordare che siamo ospiti di Focus, di cui Enrico Ballantini è il comandante. Focus 3.0 e che siamo all'interno di quella sezione di Focus intitolata da Anna Tamburini-Torre, LUX, ovvero l'Università della Conoscenza. e quindi siamo grati per questo spazio che ci viene offerto di poter condividere tutti quanti insieme queste bellissime lezioni dei maestri del Cerchio Firenze 77 e le altre moltissime cose che avvengono su questa sezione LUX della pagina Facebook Focus 3.0 e il mistero della vita mensilmente. però voi probabilmente sapete anche che noi ci troviamo comunque ogni 15 giorni e continuiamo la lettura così come facciamo, ma a momenti alterni leggiamo le parti, diciamo, mistiche, i brani mistici dei maestri del Cerchio. Noi stasera riprendiamo da pagina 120 del volume Oltre illusione la vera pienezza della vita e di che si tratta? Si tratta delle lezioni del maestro Claudio che vi ho introdotto la volta scorsa. Claudio, ormai molti di voi lo sanno, tratta essenzialmente il tema del conosci te stesso, che è un tema che si presenta, viene presentato con molta semplicità, il, come dire, il metodo di lavoro su di sé è semplicissimo ed è al tempo stesso difficilissimo. Perché? Perché ci porta a confrontarci con le nostre debolezze, con le nostre fragilità, con le nostre imperfezioni ed essendo noi individui, esseri limitati, relativi, coscienze che stanno maturando e quindi coscienze che hanno ancora strada da fare per maturare e per concludere questa fase dell'esperienza umana che è fatta di molteplici incarnazioni proprio per maturare nella coscienza e poi uscire dalla ruota delle nascite e delle morti. Essendo noi creature di questa fatta, viviamo attraverso questa struttura, come ce l'hanno ben descritta i maestri dell'Io, che si ammanta di una serie di azioni e di comportamenti tutti volti all'accrescimento di questa struttura fittizia che è l'Io, con la quale noi ci identifichiamo. La prima cosa che diciamo di noi stessi è io sono, io sono qualche cosa. C'è questo Io, c'è sempre questo Io davanti che ci indirizza nella vita e spesso ci fa combinare dei gran pasticci. Ci sono degli Io giganteschi che agiscono e talvolta questi Io giganteschi hanno nelle mani i destini di molti uomini. I quali uomini però devono confrontarsi con quei destini per crescere anche loro nella loro coscienza e quindi si devono confrontare con alcune cose che non vorrebbero mai sperimentare ma che gli permettono di fare il gradino, di affrontare il gradino per il quale si sono incarnati in questa particolare fase della vita umana. Riprendendo la lettura di Claudio, la vera pienezza della vita, dice Claudio, per indicare una grande rapidità si usa l'espressione veloce come il pensiero. In vero, specie quando l'uomo è in particolare stato di tensione interiore, le sue facoltà mentali danno risponsi così rapidi che i relativi processi di analisi e di sintesi sfuggono alla stessa consapevolezza. Per esempio, quando l'uomo fa una nuova conoscenza, si dice che egli prova istintivamente simpatia o antipatia. Ebbene, dietro a questo atteggiamento irrazionale sta un processo essenzialmente logico. Nei comportamenti istintivi, cioè non determinati dalla volontà, l'uomo segue la sua vera natura e siccome questa è egoistica, egli giudicherà il nuovo conosciuto simpatico solo se dall'esame che rapidamente farà risulterà per lui apportatore di un qualche interesse particolare. L'esame è un'analisi binaria in cui il sì e il no sono riferiti ai molteplici interessi dell'io personale ed egoistico. Quando Claudio utilizza il termine egoistico, non sta giudicando, non sta ponendo una questione di giudizio, non sta facendo una valutazione, tu sei egoista, ma sta semplicemente descrivendo un funzionamento, il funzionamento dell'io. L'io è per natura egoistico perché l'io è quella struttura che sente una distinzione tra se stesso e tutto il resto che lo circonda, cioè il non-io che è l'immensità del mondo nel quale l'io si muove. Quindi l'io è concentrato su se stesso, è focalizzato su se stesso e la sua condizione di egocentricità lo spinge poi a tutta una serie di azioni che proteggono questa centralità nella quale vive. Tutti noi ci sentiamo al centro del nostro mondo, il nostro mondo ruota intorno a noi e deve l'io proteggere se stesso attraverso tutta una serie di azioni, di scelte, di comportamenti volte ad accrescerlo, a renderlo più forte, a proteggerlo da tutto quanto e questo si traduce di fatto in egoismo. Tanto per fare un esempio, dice Kempis, l'analisi è di questo tipo. La persona conosciuta è del sesso che mi interessa? La risposta è sì o no. Se non ha attrattive sessuali cambia il tipo di quesito. Può essermi utile nei miei affari? La risposta è ancora sì o no, anche se il quesito è posto in prospettiva e così via. L'analisi continua, è proprio il caso di dirlo, veloce come il pensiero, per concludersi con una sintesi dei dati emersi che si concretizza in un'attrazione o in un disinteresse e financo in una repulsione verso il nuovo conosciuto. se l'analisi è così rapida da sfuggire alla consapevolezza, ciò non vuol dire che di essa non sia possibile rendersi conto. Proprio questo significa conoscere se stessi. Ecco, questo è un punto importante. Impiegare al massimo la propria capacità di rendersi consapevoli della propria vita interiore. Quindi, l'analisi che io faccio quando conosco una nuova persona è rapidissima, non ne sono consapevole ed esprimo poi un giudizio e etichetto quella persona come simpatica o antipatica, utile o inutile, la tengo in considerazione oppure no, mi lascia nell'indifferenza. Appena avviene questo, io posso riflettere su questa posizione che ho preso e qui subentra l'attenzione che pongo a me stesso. E ponendo attenzione a questi moti interiori posso cercare sul momento proprio di comprendere perché, per come mai sono giunto a questa sintesi che mi fa ritenere quella persona per me attraente oppure per me antipatica. In questo modo capisco un po' di quello che si è mosso dentro di me per farmi arrivare a quella conclusione. E quindi metto a fuoco alcuni aspetti che mi rimangono altrimenti sconosciuti perché non ci faccio caso, perché non mi soffermo su questo mondo interiore che si muove e che produce degli effetti. essere tanto attenti ai movimenti del proprio intimo quanto lo si è ai fatti del mondo esteriore. Il mondo esteriore noi lo controlliamo continuamente, abbiamo una costante attenzione per quello che ci accade intorno, ma pochissima per quello che si muove dentro di noi. Ci sono i moti interiori che poi hanno in realtà degli effetti che producono una serie di eventi a catena nel mondo esterno. Allora dice Claudio osservate come la consapevolezza di ciò che fate venga meno in due tipi di azione. Qui si entra un pochino nei particolari per capire. Due tipi di azione. Al primo tipo appartengono quelle azioni che in realtà sono reazioni ad avvenimenti che colpiscono interessi da voi particolarmente sentiti ai quali partecipate con tutto l'essere vostro. E questo è un tipo di azione. Tali reazioni sono così rapide che la consapevolezza ne coglie solo l'esito finale. Generalmente ciò è più evidente per gli avvenimenti nuovi e inaspettati. Al secondo tipo appartengono quelle azioni ormai conosciute, usitate, che nulla dicono di nuovo e che sono ripetute automaticamente. Questo perché l'uomo è consapevole della sequenzialità delle azioni che compie solo se queste sono reazioni ad eventi che toccano interessi da lui particolarmente sentiti o se sono compiuti nel suo disinteresse. Nel suo disinteresse perché è subentrata un'abitudine comportamentale e quindi si va in un certo senso in automatico. Osserviamo ora un uomo che per la prima volta compia un lavoro manuale. Lo vedremo tutto intento nell'eseguire la serie delle operazioni ma dopo qualche volta che le avrà ripetute egli le compirà automaticamente e la sua consapevolezza potrà essere volta altrove. Questo perché la consapevolezza è uno strumento prezioso che la natura rende massimamente disponibile da parte dell'uomo sostituendola appena è possibile con le facoltà istintive sì da lasciare quelle addette alla consapevolezza libere per altre attività. Vedete questo funzionamento è estremamente chiaro e anche come dire ha una sua economia una sua ragione economica nelle risorse che l'uomo ha a disposizione da utilizzare la consapevolezza è importantissima la metto tutto nella cosa nuova che faccio quando l'ho imparata la consapevolezza mi serve per altre cose e va via in automatico in maniera istintiva il comportamento sulle cose che già conosco. Molto si è parlato di sistemi di produzione che nella vostra società impongono la creazione di pletoriche specializzazioni a questo proposito si è detto che la specializzazione fossilizza l'uomo lo priva di quella versatilità che era patrimonio di individui appartenenti a società del passato la natura ci mostra che le società migliori sono quelle organizzate in gruppi di individui aventi particolari specializzazioni questo ce lo questo ce lo mostra la natura come ho detto questo sistema si dimostra altamente positivo per l'efficacia sociale ma come si sa nelle società non umane le facoltà mentali sono pressoché istintive il retaccio della vita è tratto dal seguire gli istinti mentre l'ottimo della vita umana sta nella riflessione e nel superamento degli istinti animali la diversità degli scopi fra la società umana e quelle subumane deve farvi comprendere che l'organizzazione delle rispettive società deve seguire criteri diversi pur rispettando una strutturazione sociale impostata sulla specializzazione onde raggiungere il meglio in ogni istituzione è necessario che l'uomo coltivi costantemente tutte le proprie qualità eserciti in continuazione il proprio pensiero consapevole noi vi proponiamo continuamente questo se il lavoro che voi svolgete vi consente tutto ciò allora vi sentirete soddisfatti e raggiungerete una grande perizia nella specializzazione vostra nel campo dove siete specializzati se invece per voi il lavoro è la ripetizione automatica di azioni o comunque non impegna la vostra creatività e non impiega il vostro pensiero consapevole esso non vi darà soddisfazione in quel caso state attenti a non occupare la vostra consapevolezza per ingigantire i torti che vi sono stati fatti o che credete vi siano stati fatti trovatevi un'attività o un interesse qualunque essi siano che possano occupare il vostro pensiero consapevole guai a chi lascia illanguidire il proprio interesse a chi si cristallizza noi vi proponiamo di riportare alla vostra consapevolezza anche quei processi istintivi di cui vi parlavo inizialmente e che sono causati dalla radice egoistica di ognuno ogni vostra comunicazione tende a promuovere l'esercizio della vostra consapevolezza vi invita a prendere coscienza di voi stessi e del vostro mondo ogni nostra comunicazione tende a questo quindi lo scopo di potremmo dire di tutto quello che apprendiamo spero che si senta bene perché vedo ogni tanto dei segnali strani tutto ciò che noi apprendiamo attraverso l'insegnamento dei maestri del cerchio Firenze 77 ha come scopo quello di renderci massimamente consapevoli consapevoli di chi siamo consapevoli del mondo in cui viviamo consapevoli dell'illusione nella quale siamo immersi a vivere consapevoli della possibilità di una lettura diversa delle esperienze che facciamo avete mai fatto caso avete mai fatto caso che la maggior parte di voi non è assillata dal problema di come sfamarsi certo ci sono le persone che hanno questo problema ma la maggior parte di noi quelli che stanno in questo momento cioè proprio noi noi che ascoltiamo le parole dei maestri in questo momento che siamo davanti a un computer è probabile che noi che siamo davanti a un computer non ci poniamo il problema di come sfamarci eppure eppure nonostante che non abbiate il problema di sfamarvi non siete felici intendo dire che a parte le calamità naturali e le malattie il problema di ogni forma di vita nel piano fisico è un problema essenziale di nutrizione aggiungiamo pure per l'uomo il problema di ripararsi dalle intemperie ammettiamo ammettiamo ancora che non di solo pane viva l'uomo ma fra il procurarsi il necessario per vivere e lo spendere tutta la propria esistenza per accaparrare svaghi e beni il passo è enorme ogni tanto claudio tira queste bordate terribili ma che sono sono veramente toccano veramente punti importanti noi abbiamo tutto ciò che serve abbiamo tutto ciò che serve e poi c'è un di più che è enorme rispetto a ciò che serve cioè ciò che potremmo considerare superfluo è veramente gran parte di ciò che di cui ci riempiamo le case e di ciò che andiamo cercando e spendiamo veramente tanta parte della nostra esistenza per rincorrere questo superfluo avete notato quanta importanza acquistino per voi problemi che dovrebbero occupare una minima frazione della vita di un uomo quanti bisogni non essenziali diventino in voi essenziali e quanti altri essenziali siano ampliati ingigantiti complicati è un modo per colmare il proprio vuoto interiore per imporre se stessi l'uomo che continuamente non muti d'abito che spesso non cambi l'auto che non compie a viaggi importanti è ritenuto dai suoi simili un fallito chi non può consentire ai propri figli di svolgere quelle attività ricreative che sono di moda è considerato un miserabile non solo ma molto spesso la propria consapevolezza è usata per osservare quanto sul lavoro o nella vita in genere si è scavalcati messi da una parte non valorizzati come si pretende purtroppo questo accade ma ciò che intendo dire è che la mancanza di ricchezza interiore e di creatività molto spesso anzi troppo spesso è colmata attraverso alla valorizzazione di fatti esterni del tutto superflui sì che essi assurgono a motivi psicologici tanto intensi da colmare il vuoto interiore il successo la notorietà le ricchezze le amicizie influenti sono mete che si crede possano riempire la propria esistenza mentre la pienezza della vita è raggiunta è raggiunta attraverso al superamento di queste di quelle istanze psicologiche psicologiche che oggi credete possano essere soddisfatte nella ricchezza nella brillante posizione e nelle amicizie influenti quindi di nuovo ripeto che Claudio non ci sta giudicando ci sta solo mostrando il nostro funzionamento e ci dice avete sbagliato meta avete sbagliato obiettivo vi siete impegnati in qualche cosa che non è quella che doveva vedere la maggior parte del vostro impegno e abbiamo creato una società di cui poi oggi vediamo con molta chiarezza con molta evidenza è proprio sotto gli occhi di tutti come questa società sia confusa sia malata sia orientata verso il superfluo verso ciò che non serve verso ciò che è futile e credo che non abbiamo ancora raggiunto il fondo ma vabbè non voglio allargare troppo il tema ma voglio passare però vorrei passare insieme a voi alla lettura di un altro brano in cui Claudio entra ancora più dentro a questo meccanismo dell'io che ha questa necessità estrema di accrescere se stesso di proteggersi di rinforzarsi di schierarsi e quindi di sentire la propria centralità contro tutti quelli che lo stanno che lo circondano allora la verità dell'intimo dice Claudio a pagina 122 di oltre l'illusione avete mai meditato sulle vostre aspirazioni segrete inconsce questa meditazione vi porterà a determinare che agite conformemente ad esse nelle vostre azioni è sempre presente l'io che contamina la bellezza delle manifestazioni affettive rendendovi egoisti accende l'arrivismo e l'ambizione della vostra attività rendendovi crudeli colui che dice di amare questo lo vediamo proprio dovunque dentro noi stessi ma chiunque parla dell'amore no per esempio tutte le canzoni che vengono scritte intorno al tema dell'amore portano tutto questo stigma dentro di sé colui che dice di amare esige di essere riamato ma dice Claudio l'amore è donazione non esigenza l'operaio mira a divenire capo officina e divenuto tale direttore adoperando ogni mezzo tutto ciò è frutto dell'io il quale tende ad espandersi per avere soddisfazione qui c'è l'indicazione dovete superare questo sottile e complesso problema senza tale superamento lo spiritualismo non ha valore potete essere sacerdoti ma se non avete trasceso l'espansione dell'io umano lo farete unicamente per divenire vescovo o per guadagnarvi un premio eterno è stato detto l'io può scegliere uno scopo nobile e utilizzarlo come mezzo della propria espansione potete imporvi la missione di migliorare gli uomini ma se provaste pena quando la vostra missione non fosse coronata da successo agireste unicamente per divenire celebri cioè per assecondare la complessa e sottile attività dell'io ed essendo complessa e sottile l'attività dell'io sfugge a quel lavoro che suggeriva prima a Claudio cioè quello di conoscere se stessi di osservarsi di cogliere di portare dentro la consapevolezza tutti quei meccanismi inconsci che ci spingono ad agire in un modo piuttosto che in un altro voi l'avete accettata avete ridotto lo scopo della vita a questa egoistica attività avete accettato l'attività dell'io credete di dover emergere primeggiare in questo o in quel campo se non riuscite a conquistarvi una condizione sociale invidiabile vi chiamerete fallito della vita vi conforterete in un ideale spirituale l'uomo per proteggere e valorizzare l'attività del proprio io ha creato le divisioni sociali e religiose che tutti conoscete ma tali divisioni essendo causa di gelosia e lotta hanno sempre creato confusione e miseria nel mondo l'impiegato ha sempre sperato d'essere un giorno direttore il soldato ha sempre ambito a divenire generale il prete vescovo colui che non sa ha sempre imitato colui che sa e se un giorno tutti questi sogni si sono avverati i nuovi vittoriosi hanno sempre disprezzato coloro che stavano in basso ed hanno sempre mostrato orgoglio di sé non può essere saggio colui che pensa al proprio simile assegnandogli una posizione nella suddivisione artificiosa della società umana noi che abbiamo tutte le nostre categorie dovete distruggere tutti questi limiti che avete creato dovete essere completamente soli e semplici e liberi perché la coscienza sorge nella libertà perché la realtà si manifesta quando non siete più impegnati nell'attività dell'io è lì che emerge la realtà quando l'io si chiede si chiede si inquieta si ferma potete con la violenza distruggere ogni suddivisione sociale ma se non sarà più palese tuttavia sussisterà sempre la divisione sociale non è che un effetto esteriore dell'espansione dell'io pensate che cosa può produrre l'io cos'è che muove che muove anche gli eserciti è proprio l'io se veramente volete abolire ogni divisione dovete operare alla radice del problema cioè nell'intimo di ogni uomo ognuno nell'intimo di se stesso ovviamente non è che posso operare nell'intimo di quello che sta accanto a me dovete cioè operare una trasformazione dell'essere vostro che non sia il risultato di violenza ma di comprensione dell'io solo mediante questa comprensione cesseranno la gelosia e la lotta nel mondo causa di dolore e miseria e questa comprensione dell'io aggiungo non avviene attraverso l'auto fustigazione attraverso i sensi di colpa attraverso un giudizio rigido e spietato su di sé avviene attraverso l'osservazione di come siamo fatti l'osservazione delle motivazioni che ci portano ad agire che ci spingono in una direzione piuttosto che in un'altra osservando in maniera neutrale senza esprimere giudizi ma semplicemente osservando cosa effettivamente ci spinge in una direzione piuttosto che in un'altra apprendiamo come siamo fatti apprendiamo come funzioniamo ognuno con il suo io scopre che fa certe scelte dice alcune cose si comporta in un certo modo si schiera insieme ad altre persone sceglie quelle compagnie piuttosto che altre perché ci sono dei motivi intimi che lo spingono a fare questo e questi motivi intimi hanno sempre a che fare con ottenere qualche cosa per se stessi per questo io a crescerlo renderlo più solido dargli un ruolo nella società nella famiglia nel mondo in cui l'io vive nel quale dove cerca di costruire il suo potere di rafforzarsi di sentirsi al sicuro e mette in atto tutte quelle strategie che gli permettono di farlo ebbene osservare tutta tutta questa azione dell'io è il modo con il quale a poco a poco si apprende qual è il funzionamento di questa struttura mentale soprattutto mentale il funzionamento le motivazioni e quindi scopriamo come effettivamente siamo fatti e giungiamo alla comprensione di noi stessi una volta che abbiamo capito non capito capito è solo una prima fase dopo l'aver capito osservando attenzione capire subentra la comprensione con la comprensione la consapevolezza ci dona il fatto di non dover più attingere a quelle modalità utilizzare quelle modalità di comportamento perché abbiamo svelato il perché creiamo un mondo così come lo viviamo noi e perché dentro a questa creazione ci comportiamo in un certo modo quindi cominciamo ad avere praticità confidenza con i nostri comportamenti più sottili cioè con le motivazioni di quei comportamenti e questo produce una consapevolezza che trasforma il nostro essere però se per esempio consideriamo di essere un io che vuole raggiungere questo grado di conoscenza di sé e di consapevolezza e utilizza questo metodo indicato da Claudio per ottenere quell'obiettivo è di nuovo l'io che si propone di diventare come dire particolarmente spirituale particolarmente capace di comportarsi in un certo modo quindi un io abile un io che obbedisce alle indicazioni che gli vengono date dal maestro Claudio e dagli altri maestri e quindi di nuovo siamo dentro in maniera in questo caso molto sottile siamo dentro al gioco dell'io e credendo di fare un altro tipo di attività ciò che dobbiamo fare è semplicemente osservare e quello che avviene in seguito a questa osservazione che è stato descritto adesso che è la comprensione che è la consapevolezza che è scoprire come effettivamente funzioniamo è fine a se stesso e non deve avere altro scopo che guardare come siamo fatti punto senza avere delle aspettative particolari su di sé senza giudicarsi perché non riusciamo ad ottenere ciò che vorremmo ottenere senza aggiungere elementi che possono in qualche modo rappresentare di nuovo un allargamento del proprio io una una crescersi di questa struttura che ci accompagna per tutta la vita che non è il diavolo è solo come siamo fatti in questo modo impariamo a conoscerci un po' meglio vediamo un po' vediamo un po' sì 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 vi leggo un ultimo capitoletto un ultimo capitoletto non so quanto si è amato Claudio in questo con questo suo modo di metterci a nudo però devo anche dire che il fatto che noi viviamo nell'inconsapevolezza ha dei pesi enormi voi sapete bene come funzioniamo muovendosi faticosamente dentro la vita con alcuni momenti di gioia di leggerezza ma spesso spesso molto più spesso cerchiamo di proprio di di usare tutti i nostri strumenti a disposizione per cercare di affermare noi stessi nella vita sugli altri nelle relazioni cercando conforto negli altri sono tutte tutte azioni dell'io che cerca in qualche modo di proteggere se stesso dice Raffaella che non è un'operazione semplice quella di porsi come osservatori interni senza giudicarsi eh no non è semplice per niente non è semplice per niente e soprattutto all'inizio bisogna fare molta attenzione a questa tendenza ad esprimere giudizi su di sé ma perché io esprimo un giudizio su di me esprimo un giudizio su di me perché perché mi mi confronto con alcune categorie etiche morali che vorrei quelle più alte vorrei che fossero le mie che mi appartenessero mi ci riconosco col pensiero no in certi in certi modelli però sono modelli lontani non riesco a incarnare quei modelli e allora giudico me stesso perché perché l'io di nuovo vorrebbe raggiungere quel modello vorrebbe superare quel gradino vorrebbe essere più di quello che è in questo caso dal punto di vista spirituale e quindi l'io mentre osserva se stesso si giudica perché non è in quel modo e non gli piace non gli piace ma il giudizio lo esprime perché c'è una pretesa dentro di sé di essere qualcosa d'altro da ciò che è dice Anna quanto è difficile cercare di trasmettere ai miei studenti il messaggio della pochezza dei valori apparenti eppure in tempi così superficiali credo sia necessario non arrendersi mai eh sì sì non è facile trasmettere questo perché questi ragazzi li abbiamo cresciuti perdendo proprio di vista cosa poteva essere utile per loro li abbiamo riempiti di cose poco utili li abbiamo riempiti li abbiamo riempito la testa di confusione perché gli abbiamo indicato delle mete da raggiungere che sono superficiali e il così sono venuti su così perché fin da bambini li abbiamo abituati ad andare nei negozi a scegliersi quella cosa che gli piaceva insomma siamo noi non sono loro che sono sbagliati siamo noi che abbiamo un po' sbagliato meta perché venivamo forse da momenti difficili della vita c'erano stati c'erano state cose pesanti non volevamo più vivere in un certo modo e abbiamo sbagliato obiettivo dopo l'ultimo grande conflitto mondiale avremmo potuto effettivamente quella era un'occasione per costruire qualcosa di meglio ma eravamo tutti molto affamati eravamo tutti molto bisognosi per cui ci siamo buttati sul versante opposto e oggi quei genitori che hanno figli che vivono in maniera così un po' superficiale che si confrontano con la superficialità quei genitori là sono figli di quella situazione e quindi hanno perso di vista ciò che era importante e oggi ci lamentiamo del fatto che questi ragazzi sono quello che sono si manifestano come sono ma la responsabilità è nostra l'errore l'abbiamo fatto noi certo adesso dici bene è molto difficile recuperare il terreno bisogna ricordarsi che abbiamo tanta responsabilità su quello che sono adesso i nostri giovani e che però fra di loro ci sono delle meravigliose luci che risplendono tanta confusione che c'è e che sono il nostro futuro quindi possiamo cercare effettivamente di indirizzarli un po' meglio perché alla fine loro ce lo chiedono ecco Maria Vittoria dice l'io potrebbe essere anche un motore l'io è un motore essenzialmente un motore l'io è un motore perché perché tutto quello che noi facciamo è mosso da l'io non c'è una cosa si può dire che facciamo nella vita che non sia mossa da l'io quindi la mattina quando cominciamo a metterci davanti allo specchio e ci pettiniamo ci rasiamo bene la barba ci mettiamo il trucco intorno agli occhi e poi guardiamo come si accostano i colori degli abiti che indossiamo e poi prepariamo la nostra giornata di lavoro per piacere più a questo o a quello per portare a casa un risultato che per noi è importante o economicamente o perché ci rinforza nel ruolo o perché ci dà soddisfazione o perché ci fa sentire a posto tutto questo ha tutto a che fare con l'io per questo dico che l'io non è qualche cosa che va demonizzato assolutamente è proprio il modo con il quale noi stiamo dentro la vita e su questo non c'è giudizio è un dato di fatto noi siamo degli esseri inguainati dentro un corpo fisico e le confine tra l'io e il non io è proprio il fisico del nostro corpo tutto il resto è non io e con questo non io noi ci confrontiamo continuamente partendo da dentro dall'io che in qualche modo deve confrontarsi con tutto il non io che è un apparato gigantesco dal quale l'io deve difendersi proteggersi o che deve conquistare dove deve trovare il suo posto dove deve mantenere il suo posto tutti i privilegi che cerchiamo di ottenere nella nostra vita piccoli o grandi che siano poi li dobbiamo difendere dobbiamo difendere ci dobbiamo circondare di tantissime cose e dobbiamo continuare in questa rincorsa è tutto molto effimero se si va a vedere ma è un funzionamento e se riusciamo a capire bene come è strutturato questo funzionamento possiamo piano piano per piccoli passettini piccoli punti arretrare e dall'altra parte quello che si ottiene è la perdita della della forza per vicace che ha questo senso di separatività che l'io alimenta continuamente più che l'io si ritrae e più che questo senso di separatività perde di consistenza i due processi viaggiano di pari passo siccome l'altra cosa che ci spingono a comprendere i maestri è che questo senso di separatività ci abita e ci confonde per tutta la vita può essere a poco a poco superato questi due aspetti che viaggiano insieme cioè la possibilità dell'io di riconsiderare se stesso piano piano essere meno sempre meno potente produce come effetto l'altra l'altro risultato prezioso cioè l'annullamento il superamento a poco a poco del senso di separatività fino ad arrivare al punto in cui si comincia a pensare a considerare gli altri come una parte di sé ed è ancora visto dal punto di vista dell'io dal punto di vista ego centrato il mondo tutti gli altri sono una parte di me e se io sto sempre al centro poi a poco a poco questo può diventare questo pensiero può diventare non esiste né io né gli altri esiste solo la realtà e tutti ne facciamo parte e tutti siamo la stessa cosa cioè la stessa realtà quello è un punto di arrivo in cui quasi cioè il momento in cui si supera il bisogno di manifestarsi attraverso un uomo incarnato in un mondo separato si supera e ci sono altre modalità di stare dentro una realtà e di percepire la realtà sì io credo che un altro pezzettino ve lo posso leggere beh perché poi Claudio è anche è anche bello da leggere dice superare la ricerca di conforto e tutti noi abbiamo sempre bisogno di conforto in qualche modo conforto che è quel tipo di riconoscimento che cerchiamo per ciò che facciamo per ciò che sappiamo per come siamo no tutti quanti cerchiamo in qualche modo qualcuno che ci conforti da questo punto di vista l'uomo ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa una fede la speranza qualcosa che lo conforti nel dolore presente ma che al tempo stesso valorizzi questo dolore lo trasformi in volontà di Dio espressione del suo affetto per gli uomini il dolore sarebbe un'espressione dell'affetto di Dio per gli uomini perché perché in questo modo se il dolore è valorizzato capite bene che ci sto meglio dentro se ha un valore eppure il dolore dice Claudio scomparirà dalla terra ciò non di meno è necessario l'uomo liberato non conosce il dolore guai se non lo conoscessero gli altri gli altri uomini quella fede quella speranza sviano l'esatta considerazione del dolore esse dicono questo dolore ti viene dato perché Dio ti ama quante volte lo abbiamo sentito questo anziché dire questo dolore è il frutto di qualcosa che hai fatto senza avere compreso sono un'illusione un tranello una lusinga dell'io non cercate quindi il conforto di quella fede di quella speranza per non restare delusi non cullatevi nel pensiero che soffrite per volontà di Dio bensì siate consapevoli che soffrite cosa suona qui siate consapevoli che soffrite perché avete agito senza comprensione è molto più facile ritenere il dolore una prova piuttosto che considerarlo il frutto della nostra mancanza di duttilità in quanto ciò accarezza l'ambizione dell'io un altro modo con cui l'io si manifesta ma vede la realtà chi ha dimenticato l'io chi non conosce le sue lusinghe i suoi tranelli vedere la realtà significa sbarazzarsi di tutto ciò che si interpone fra voi e la realtà medesima per stabilire questo immediato contatto occorre comprendere e non illudersi illudersi è proprio la modalità con la quale l'io opera perciò piano piano smettere di guardare con gli occhi dell'io illudersi significa credere che la conoscenza porti la liberazione che seguire certe regole che stabiliscono cosa fare o non fare faccia di voi degli uomini liberi e questa è un'illusione che molti spiritualisti seguono disperatamente se un uomo ha no ho saltato delle righe un'azione può essere compiuta con mille intenzioni con mille scopi è assurdo quindi dire fate o non fate più esatto è consigliare rendetevi consapevoli del perché agite se un uomo liberato tutte le mattine si lavasse nell'acqua di un ruscello voi credereste di giungere alla liberazione imitandolo ecco l'errore prendete la sua come una norma igienica ma non illudetevi che il seguirlo possa fare di voi degli uomini liberi perché la liberazione è un fatto interiore che avviene quando tutto il vostro essere vi partecipa questo rivoluziona le vostre idee filosofico religiose voi infatti date somma importanza all'imitazione al discepolato credendo che in ciò sia lo scopo della vita mentre la vita trova compimento quando il vivente ne scopre la meravigliosa realtà che non è realtà fisica ma realtà assoluta essendo unica la vita ecco perché non comprendete più il nostro insegnamento o meglio non l'avete mai compreso voi siete in una posizione errata di fronte alla vita voi vi sorge istintiva una domanda qual è la posizione giusta sarebbe come dire che devo fare ossia domandare una specifica linea di pensiero e di azione e imporsela con sforzo non va bene non è questo chi vuol conoscere quella realtà che trascende ogni limite l'io e il non io in cui vive in un eterno presente e in una infinita presenza deve cessare di illudersi deve staccarsi abbandonare tutto ma anche questa meta è desiderata come un arricchimento delle proprie facoltà quello che vi dicevo prima anche queste parole sono interpretate come un modo da seguire e allora pur essendo vere queste parole per voi sono mera illusione se la motivazione è sempre quella di accrescere se stessi di migliorare se stessi di raggiungere una meta spirituale siamo di nuovo nell'illusione molte creature hanno abbandonato la loro posizione sociale donato ogni loro possesso rinunciato ad ogni affetto e si sono ritirate nella solitudine di un eremo attendendo in vano l'ora della liberazione non è un semplice atto di donazione che può aprirvi alla realtà donando ogni vostro possesso non potete sottrarvi al desiderio di possedere perché quello continua per male rinunciare a onori e gloria non significa che abbiate trasceso l'ambizione l'io e il suo processo egoistico non possono sperimentare ciò che è senza limite l'io è limitato e non può sperimentare l'illimitato ciò che è senza limite senza distinzione e voi seguite questo processo anche quando vi sbarazzate di tutto per trovare nella solitudine la realtà ecco perché è importante conoscere se stessi se quella creatura che ha abbandonato tutto avesse analizzato l'intimo suo si fosse resa consapevole che stava seguendo l'ambizione dell'io di venire grande in cielo quella creatura avrebbe risparmiato delusioni e dolori a sé e agli altri abbandonare tutto per una simile ragione significa cercare di illudersi bensì illudersi ulteriormente chi può porre termine a questa continua autoillusione voi stessi conoscendovi nessun santo nessun dio possono comunicarvi la verità la verità infatti non si comunica chi la incontra chi la trova non può trasfonderla negli altri ciò che sta oltre l'orizzonte può essere descritto da altri immaginato da voi ma mai sperimentato come quando veramente voi vi sarete liberati ecco quindi perché nel seguire un maestro sia pure giunto alla realtà non sta la vostra liberazione noi che tutti quanti seguiamo maestri leggiamo ci inginocchiamo davanti al loro pensiamo cerchiamo di imitarli in qualche modo questa liberazione lo ripeto non mi stancherò mai di ripeterlo è un fatto interiore voi voi soli dovete liberare l'essere vostro nessun altro può liberarlo per voi eh sì caro Claudio non ci fa sconti però neanche guardate le prime volte che io leggevo Claudio molti anni fa lo sentivo sentivo veramente difficoltà avevo difficoltà a stare con queste parole che diceva dirette talvolta le sentivo spietate perché diciamo insomma ma è proprio è proprio una cosa difficile è proprio annunciare completamente a se stessi ti sei costruito la tua vita sei andato a scuola hai studiato hai fatto dei passi l'università la società ti ha indicato delle mete e tu le hai perseguite sei convinto di tutto quello che hai fatto cerchi di comportarti bene e però tutto questo è un'illusione e accettare questo e accettare il fatto che va bene così cioè che non deve essere che non deve accadere una trasformazione che non devi andare alla ricerca di un cambiamento di te stesso perché sarebbe di nuovo l'io che vuole cambiare se stesso per migliorare se stesso capire questo permette allora di guardare a queste indicazioni senza sentirse schiacciati senza provare l'impotenza che nasce dal desiderio dell'io di essere abbastanza potente da raggiungere questa meta è una costante come dire una costante sfida proprio di fioretto con l'io al quale bisogna volere molto bene perché l'io non può essere che quello che è noi siamo fatti così ed è funzionale al nostro percorso evolutivo questo io è proprio ciò che ci vuole si tratta di capirlo capire come è fatto come si muove come avviene di questo stiamo parlando noi adesso stiamo per salutarci sì più o meno allora è questa e quindi dopo aver letto le cose di di Claudio e queste belle cose io vi do appuntamento fra un mese il primo venerdì del prossimo mese che non ricordo assolutamente qual è però è il primo venerdì del prossimo mese sempre alla stessa ora e continueremo con Claudio ci stiamo avviando a finire le lezioni di Claudio e poi entreremo nel ah no poi c'è forse leggeremo qualche cosa ancora di Teresa la mistica del cerchio molto bella anche quella e poi insomma ci stiamo avvicinando verso la parte più il primo aprile ah il primo aprile quindi ci vedremo il primo aprile ci dice Paolo grazie Paolo e ci stiamo avvicinando alla parte di insegnamento lì dovremo andare veramente molto molto tranquilli perché non è per niente banale ci aggiorniamo quindi al primo aprile con molto piacere e vi ringrazio di essere stati con me questa sera è stata una bella occasione per rivisitare Claudio le parole di Claudio e ci magari ci possiamo già leggere le ultime cose di Claudio prima di ritrovarci così da poterle da poterne condividere insieme grazie di tutto è stato come sempre un piacere e chiudo questa diretta ringraziando ancora Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre per questa ospitalità a presto a presto a tutti senti a presto a presto le Grazie a tutti